E' stata una visita molto intensa quella del Papa a Torino. Tra i momenti più emozionanti l'incontro nella Basilica di Maria Ausiliatrice con la famiglia Salesiana e i delegati del Forum Oratori Italiani in occasione del bicentenario della nascita di Don Bosco e la visita al Cottolengo dove Papa Francesco ha portato il suo saluto a disabili e ammalati. Lunedì infine Bergoglio, primo Papa nella storia, ha visitato il Tempio Valdese.